Sì, cominciamo, nuovo giro ragazze, e si parte, dai facciamo così il nuovo giro, si comincia, buon viaggio, ragazze state calmi, non agitatevi, in questo giro c'è una sfida tra Andrea, frummi, questa l'ophcomante sarà una sfida, la figa della ferma, bambini se raii, in questo giro, a me puoi dare, fai del perro, di sargi, la famiglia, Eccoli, eccoli che ci stanno scatenando le ragazze. Eccoli, eccoli che stanno scatenando le ragazze. Eccoli, eccoli che stanno scatenando le ragazze. Eccoli, eccoli che stanno scatenando le ragazze. perfetto e perfetto e perfetto e perfetto e non si può essere la mia pagine si può essere e si è giusto e G e si ragazze si ammocchiate tutti e poi ci è e poi ci è e poi ci è ma ma che ci sono e che ci sono e che ci sono